ciao a tutti gli amici di film and more sono davide belardo di the room view e oggi sono qui per parlarvi e presentarvi la steelbook dell'ultimo film di marty scorsese film incredibile con un cast di eccezione tra cui troviamo appunto Leonardo DiCaprio e De Niro questa edizione particolare ragazzi del cortese una steelbook non so se molti di voi lo sanno ma l'edizione italiana al momento è l'unica sul mercato o un video per quanto riguarda questo film di scorsese quindi anche gli appassionati esteri sicuramente punteranno a questa edizione per mettere in collezione questo film che in realtà dovrebbe essere un'esclusiva apple tv plus ma così non è sul nostro territorio almeno per il momento quindi fatelo vostro perché soprattutto se vi interessa la steelbook potrebbe andare esaurita molto molto presto ma andiamo a scoprire com'è questa steelbook all'interno all'interno troviamo questo bell'artwork che riprende uno dei poster originali di questo film e nella parte posteriore abbiamo un bel fuoco che divampa guardiamoci la steelbook a figura intera e possiamo notare che un artwork continuativo quindi una cosa molto molto bella che come sapete a me piace tantissimo all'interno della steelbook troviamo due dischi il disco blu ray che anche un po di extra non sono tantissimi sono tanti di numero perché sono tre interviste e un po di clip promozionali sul film con la spiegazione dei personaggi principali del tema centrale del film del confronto tra finzione realtà però sono tutte clip molto piccole parliamo di un minuto due minuti a interviste a clip però comunque c'è un po di materiale ottimo blu ray tra l'altro e poi ovviamente ci abbiamo il disco 4k che dà una spinta in più soprattutto con gli utilizzi di filtri che ne caratterizzano ancora di più la splendida pellicola e la splendida veramente fotografia dell'opera e poi nella steelbook troviamo anche due immagini speculari ovvero come sempre il fuoco che divampa insomma comunque c'è anche un artwork interno vi ripeto che questa steelbook che trovate un po ovunque ovviamente anche sul sullo shop di film e more che è lo shop ufficiale di col picture se vi interessa questa steelbook come ho detto fate attenzione perché potrebbe andare presto fuori catalogo perché magari appena gli appassionati esteri si accorgeranno di questa uscita magari lavoreranno anche loro anche perché c'è la possibilità inizio di avere il menu in italiano o in inglese e che dirvi iscrivetevi a questo canale perché è un canale fondamentale non tanto per i miei unboxing ma quanto per la possibilità di vedere film gratuiti ogni settimana vengono aggiunti tantissimi film quindi iscrivetevi e attivate la campanella per stare sempre ragionale sull'uscita dei prossimi video noi ci vediamo al prossimo unboxing e che dire buon film a tutti ciao ciao